Crederci, ancora e fino alla fine. In fondo, che cosa ci costa? Qualcuno dopo il pareggio acciuffato in extremis contro la Fiorentina potrebbe anche obiettare che il tempo delle facce di illusione sia finito per la nostra Samp, ma forse questi non fanno i conti con la nostra entusiastica ed inimitabile leggerezza. Nel lungo e caotico viaggio di ritorno ieri sera nella città del Giglio non c'erano facce tristi né tantomeno delusione. In tutti i 2.500 e più supporters della Samp sembrava quasi avvertire orgoglio. Orgoglio per un gruppo che aveva fatto sognare l'impossibile, capace poi di cadere agli inferi in meno di 10 minuti e di risollevarsi come solo le grandi squadre sono in grado di fare. Un gruppo dalla mentalità ormai affermata, un gruppo dove oltre ai magnifici solisti arrivano ad imporsi anche giovani ragazzi dal futuro luminescente. Ed è significativo che il gol delle speranze blucerchiate sia stato messo a segno al 94esimo minuto di una fiorentina Samp da Cardiopalma da Daniele Gastaldello. Ragazzo giunto a Genova quasi in sordina, che in meno di sei mesi ha saputo imporsi come titolare inamovibile e sicura certezza per il domani. E allora avanti così, con Cassano e Gastaldello, perché di finale la Samp ne deve giocare ancora tre. E nessuno, ma proprio nessuno, vuole pensare che sia finita. Con il prezioso punto conquistato dal Franchi, la Samp tocca quota 56 in classifica. Restano così sempre 10 i punti in più rispetto alla scorsa stagione, 51 gol fatti e 40 quelli subiti. Quello di Firenze è il secondo pari esterno stagionale che segue lo 0-0 di Torino contro la Juventus. Restano 6 i successi esterni a fronte di 10 sconfitte. Ruolino di marcia assai differente tra le mura amiche del Ferraris, dove domenica prossima Eldoria è atteso dal match con la Roma. Sono infatti 10 le vittorie, 6 i pareggi, a fronte di un solo KO, quello dello scorso 31 ottobre con il Milan. Claudio Bellucci rimane il cannoniere principe con ben 12 marcature. Seguono Antonio Cassano con 8 gol e un sorprendente Cristian Maggio salita quota 7. Prossimo avversario di campionato, come detto, la Roma. E per preparare con attenzione e dovizia di particolari la sfida del Ferraris contro i giallorossi, la squadra blucerchiata tornerà al lavoro già domani pomeriggio, presso il centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco. Nessun problema particolare per i calciatori impegnati ieri a Firenze da mister Walter Mazzarri. Da valutare quindi solo le condizioni fisiche di Ugo Armando Campagnaro. Fermo per l'infortunio alla spalla, Luca Castellazzi. Vetta nuovamente conquistata. Con il facile successo per due reti a zero sul Pisa, la primavera di Fulvio Pea riaggancia la vetta del girone A del campionato. Le reti di Cuciniello e Nicola Ferrari hanno permesso ai nostri ragazzi di battere i toscani e approfittare così del passo falso casalingo della Juve che viene scavalcata di due punti da Lanzoni e compagni. Manca un solo turno alla fine della regular season che vedrà i bianconeri di scena a Pisa, con la Samp impegnata a difendere la sua leadership in casa del Cagliari.